La Regione Toscana intraprenderà un'azione legale di tipo civile contro le aziende farmaceutiche Roche e Novartis per ottenere un risarcimento di oltre 43 milioni di euro. Al centro della vicenda c'è l'accordo con cui le due aziende hanno favorito l'uso esclusivo per la cura di una patologia oculistica, la degenerazione maculare senile, del farmaco Lucentis, 550 euro a confezione, rispetto al più economico Abastin, 20-30 euro a confezione. Una violazione della normativa antitrust comunitaria che l'autorità garante della concorrenza ha contestato con una sanzione inflitta alle due aziende da 184 milioni di euro, confermata anche da due sentenze del Consiglio di Stato. Noi siamo una regione che da un lato vuole favorire la presenza dell'industria farmaceutica, abbiamo fatto in questo senso tante iniziative, e dall'altra però dobbiamo anche governare un servizio sanitario dove se un farmaco è equivalente è giusto usare quello che costa 10 volte di meno, soprattutto quando emergono anche da istituzioni pubbliche sentenze che rilevano comportamenti illeciti. La regione toscana aveva già inoltrato nel febbraio scorso una diffida a Roche e Novartis con la richiesta dei 43 milioni di euro, ma le due aziende non hanno mai provveduto al risarcimento, di qui l'azione regale. Grazie a tutti.